Sto prendendo le fate per evocare l'Empress Che prospettive avete sulla boss fight che dobbiamo fare? Che sarà un po' troppo esagerata per quei miei gusti Ok, e allora andiamo Prego Oh Maria Santissima Oh Madonna, sono già morto Ma non avevano detto che la facciamo di notte Infatti, è notte Oddio Ho la trenativa Vai, vai ragazzi, dai Dai, la vedo buona questa Non è vero, non devo stare zitto Cosa stai dicendo? Mamma mia ragazzi, mi ha fatto il culo Morto 300 di danno Cristo ce la stavo facendo Ok, dobbiamo giocare tutti meglio Sì, io devo giocare prima di tutto Qua i buff servono Ragazzi, qua i buff per forza Più, più Ma quella musica inizia No, 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 no Ragazzi, no Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Oh mio Dio Quanta roba c'era Io sto già male Mio Dio ragazzi, mio Dio Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio Ma cos'è sta roba? Oh, oh, oh Corri, cioè corri Quando inizia a scattare Devi scappare Perché diventa invincibile? Ma ragazzi, aiuto Dov'è? 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 Perché è disfaunata? Sono arrivato io Perché è disfaunata? Ah, beh, è cresciuto per un'aria Come andò? Morto Io non so perché mi stanno Ma giorno Ma perché giorno? Guarda, tu sei Qualcos'io Sono io che muoce Il pochino Vabbè, vai Non ha senso Ragazzi, muoio subito Io in questo gioco muoio subito Raga, non riesco a batterlo Raga, non ce la faccio No, ragazzi Non me la sento Non me la sento E vabbè, dai Ma viene giorno Ma raga, ma perché la di faccio? Oh Raga, facciamo qualcuno Aspettate Ma sono morto Ce l'ho Novecento di danno Novecento Chi è che ha posato del platino per terra? Ci siamo? Io sono qua su un paio Tre Vai Due Uno Vai, scuola Tre, due, uno Mettere ci abbatte Ci abbatte per pazienza Oh, mi stai cacciando Fai tornare sta fissa No, raga Oh, raga È la prima pozione di cura che uso in titolo a partire Eh, io ne ho usato solo anch'io No, raga, con l'adrenalina Morto Eh, due di vita Due di vita Eh, scuola Ho tanto di vita È morto Ok, ci sono Arrivo Arrivo, ragazzi Arrivo Mi si incastra Dov'è? Mi si è sponata Mi si è sponata Ma perché? Dai, ragazzi Che palle ste boiate Via È sparita È invincibile Poi ragazzi Lo scatto va schivato sempre Fa troppo danno con lo scatto Ok Fase 2 Fase 2 Fase 2 No, c'è il death banetel Il death banetel Morto 300-400 di danno Mi sciocca, mi sciocca, mi sciocca Resistete, resistete Ci sono solo io 5 secondi 5 secondi Anch'io Dai, dai, dai Eccoli No, 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 no Cosa cazzo ho fatto? Cosa cazzo ho fatto? No 300- Sono morto Raga, 20 secondi Ragazzi, dai Sono morto No Morto No, Bea, ti prego Bea, resisti 10 secondi Scappa 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 Concentrate Concentrate anche se laggi Raga 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 8% Raga, mi prego Raga, sei morta Sei morta Sei morta Mori Sì T'ho morto Madonna Madonna, se non muori È morta È morta È morta È morta Quanto cazzo sto godendo Madonna La reliquia Qua Qua la reliquia Subito Grazie a tutti Sì